Storia della razza. Il nome Xoloitzquintli deriva dalla lingua Azteca Nawatl, dal nome del dio Xolot Xolotl e dalla parola Xquintli, cane. L'origine di questi cani va in profondità nella storia. Nelle antiche sepolture in Messico si trovano mummie di cani e figurine di argilla raffiguranti Xoloitzquintle. Questi ritrovamenti risalgono al 5000 al 3000 h. E il fatto che queste statuette raffigurino esattamente cani nudi è testimoniato dalla presenza di due tipi di statuine. Alcune avevano tratti raffiguranti la lana, mentre altre erano assolutamente lisce, cioè nude. La razza era considerata un rappresentante terreno del dio Xolotl, da cui ha avuto origine il suo nome. Il compito di Xoloitzquintle era quello di accompagnare le anime dei morti nell'aldilà. Il missionario francescano, naturalista e storico Bernardino de Saguna ha descritto in dettaglio la razza Xoloitzquintle. Dopo la conquista spagnola del Messico, gli Xoloitzquintles iniziarono ad essere sterminati come oggetto di culto pagano e presto quasi scomparvero. Nel 1954, Norman Pelembri tentò di salvare la razza, per questo andò nel centro del Messico in remoti villaggi indiani, dove contrattò per una dozzina di cani dagli indiani. Il primo maggio 1956 il mexicana Airless Dog fu ufficialmente riconosciuto in Messico. Nel 1960, la Federazione degli Allevamenti Messicani aveva registrato 40 tiratori e nel 1965 c'erano già 70 cani. Ora ci sono diverse migliaia di cani messicani senza pelo in Messico. I primi cani furono portati in un RSS da Cuba nel 1986. Punti salienti e fatti interessanti. L'Oxoloitzquintle è stato riconosciuto dall'AKC nel 2011, ed è la sua 173esima razza. Il nome si pronuncia Xoloitzquintle. L'Oxoloitzquintle, conosciuto da oltre 3.000 anni in Messico, può giustamente rivendicare il titolo di primo cane d'America. Solo Xoloitzquintle è disponibile in tre dimensioni. Giocattolo, miniatura e standard e due varietà. Nudo e coperto. Gli Xoloitzquintle appaiono nei dipinti di famosi artisti messicani come Diego Rivera e Frida Kahlo. La razza è considerata un tesoro nazionale in Messico. Baggia, in California, ha una squadra di calcio professionistica, che prende il nome da questa razza. Aspetto. Una caratteristica importante della razza, è la completa, o quasi totale asenza di pelo e pelle liscia e delicata. Il corpo dell'Oxoloitzquintle ha proporzioni armoniose, il torace è sviluppato, il torace è largo, le zampe e la coda sono lunghe. Ci sono tre taglie per maschi e femmine. Dimensioni standard. Da 46 a 60 centimetri. Dimensione media. Da 36 a 45 centimetri. Dimensioni in miniatura. Da 25 a 35 centimetri. Pelle. A causa della completa assenza di pelo, la pelle è di particolare importanza per questa razza. È liscia e molto sensibile e anche abbronzante. La pelle sembra essere più calda rispetto alle razze lanose, poiché il calore non viene filtrato attraverso la lana, ma viene rilasciato direttamente. I cani di pelle chiara hanno bisogno di più protezione solare. Cicatrici e cicatrici ricevute accidentalmente non devono essere penalizzate con una detrazione nell'esame del cane. All'esposizione il cane suda attraverso i cuscinetti delle zampe, e le membrane interdigitali e tende a non soffocare. Denti. Questa razza è priva di premolari, quattro denti che seguono i canini. Non si tratta di un difetto, ma di un altro tratto distintivo della razza, poiché il gene che determina l'assenza di pelo, è legato al gene che determina la presenza dei denti. A volte mancano anche le zanne. Tratti distintivi del carattere. Intelligenza molto alta, sensibilità, alta energia, curiosità e istinti sociali sono evidenti perché il temperamento della razza non è stato alterato del tutto dall'allevamento selettivo nella loro storia nativa messicana. Ha anche fornito una forte componente fisica alla natura, e alla buona salute. Gli zloitzquintle adulti hanno spesso un atteggiamento calmo, anche se i cuccioli possono essere estremamente energici, rumorosi fino a raggiungere la maturità dopo i due anni di età, dopodiché tendono a calmarsi e diventare più calmi. Zloitzquintle, senza un'adeguata supervisione o addestramento, può diventare un maestro della fuga, arrampicandosi e saltando oltre le barriere all'inseguimento. Molti membri di questa razza possono possedere abilità di cane da guardia, e non si tireranno indietro da un combattimento. Allo stesso tempo, i cani adulti, se allevati correttamente, possono diventare compagni resistenti, educati e affettuosi. Sebbene maturino fisicamente a un anno di età, molte razze canine, incluso lo zloitzquintle, non diventano emotivamente mature fino a circa due anni di età. Come le razze attive come i terrier, zloitzquintle ha bisogno di un addestramento all'obbedienza calmo e coerente e di una socializzazione regolare durante il periodo di crescita. Gli zloitzquintles ben cresciuti si legano fortemente ai loro proprietari, diventano molto fedeli alle loro famiglie, spesso scegliendo un particolare membro della famiglia come loro preferito. Chiunque stia pensando di acquistare uno zloitzquintle dovrebbe aspettarsi di dedicare del tempo all'apprendimento di tecniche di addestramento del cane di rinforzo positivo, e, idealmente, dovrebbe avere esperienza con razze di cani attive intelligenti. Per questa razza è auspicabile un ambiente spazioso, ben recintato e sicuro. Le passeggiate quotidiane sono l'ideale per il tuo allenamento zloitzquintle, tuttavia, gli esemplari più grandi e attivi della razza sono incoraggiati a esercitare un esercizio fisico e mentale più stimolante. I problemi comportamentali di zloitzquintle sono solitamente il risultato di un'osservazione inadeguata o incoerente del cane, nonché di un esercizio, e di una stimolazione mentale inadeguati. Lo zloitzquintle è un cane sociale che nella maggior parte dei casi non deve essere l'unico cane. Non si sente bene se viene tenuta solo per strada. È una razza che dà il meglio di sé quando entra a far parte della famiglia, interagendo regolarmente con la sua gente, e altri cani, sia a casa che come normali compagni di gioco. Manutenzione e cura. Un messicano nudo si sentirà bene con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. L'Oxloid Quintle rivestito ha un pelo corto di facile manutenzione che richiede solo una spazzolatura occasionale. I cani adulti richiedono una cura minima, mentre i cani giovani possono soffrire di acne durante l'adolescenza, e possono richiedere una cura della pelle speciale. Oltre alla regolare pulizia settimanale, un bagno periodico li aiuterà a rimanere puliti e ad avere un bell'aspetto. Le unghie devono essere tagliate regolarmente, poiché le unghie troppo lunghe possono causare disagio al cane. I cani senza pelo, hanno bisogno di protezione solare se esposti alla luce solare diretta per lunghi periodi. I messicani nudi amano le lunghe passeggiate e i giochi divertenti. Tuttavia, i cani più giovani hanno bisogno di più esercizio e tempo di gioco strutturato per mantenerli sani, felici e fuori dai guai. Salute. I cani messicani senza peli, sono generalmente sani e gli allevatori responsabili esamineranno le loro mandrie per problemi di salute come displasia dell'anca, l'usazione della rotula e i condizioni degli occhi. Come con tutte le razze, le orecchie di Zloitzquintle, dovrebbero essere controllate regolarmente per segni di infezione, e i denti dovrebbero essere lavati frequentemente con un dentifricio fatto per cani. Il prezzo di un cucciolo è di 400 dollari. Linea di fondo. Zloitzquintle o Zolo è una delle numerose razze di cani senza pelo. È disponibile nelle taglie standard, media e piccola. Zloitzquintle si presenta, anche in diversi rivestimenti, completamente ricoperti di piccoli peli, ricoperti di lana e glabri. Tipi diversi possono nascere nella stessa cucciolata a causa della stessa combinazione di geni. Una varietà glabra conosciuta come il cane glabro messicano. È caratterizzato da rughe e anomalie dentali. Il nome deriva dal dio Zloitzquintle, che secondo antiche leggende ne è il creatore.